In occasione del 25 aprile, Festa Nazionale della Liberazione, il Comune dell'Aquila ha predisposto un programma di iniziative. Alle ore 9, nel piazzale dello stabilimento Ex Tale Salenia, si terrà una cerimonia di commemorazione dei caduti della Banca d'Italia. Alle 9.30, in piazza Nove Martiri, verrà reso omaggio ai Nove Martiri Aquilani, trucidati il 23 settembre 1943. Alle ore 10.15, nella frazione di Difiletto, si terrà una cerimonia di commemorazione della strage del 7 giugno 1944, mentre alle ore 10.30, alla villa comunale, avrà luogo l'omaggio ai caduti della patria, con l'alza bandiera e l'esecuzione dell'inno nazionale, seguiti dalla deposizione di una corona, esecuzione del silenzio e lettura della preghiera dei caduti. A seguire, consegna della medaglia d'argento al merito civile, conferita al Comune di Campo di Giove, per i fatti della Seconda Guerra Mondiale. Alle ore 11, a Onna, si terrà la cerimonia commemorativa delle vittime delle strage dell'11 giugno 1944. Infine, alle 11.30, alla Caserma Pasquali Campomizi, vi sarà omaggio della Municipalità, al sacrificio dei Nove Martiri Aquilani, nel luogo dove i giovani vennero uccisi. Anche Lampi ha voluto partecipare a questa giornata. Una grande giornata antifascista, con letture, assemblee, animazioni per bambini, graffiti, musica, di G7, mostre fotografiche. Partire dalla mattina, alle ore 11.00, dalle ore 16, presso il Parco del Castello, letture musicate per bambini e adulti, a cura di bibliobus e nati nelle note. Per l'intera giornata ci saranno mostre sulla resistenza e sulle nuove resistenti.